Come mai ha deciso di venire a fare calcio, di investire a Giulianova, una piazza comunque importante? Tutto è partito per scherzo, tra amici, ho degli amici qui a Roseto, quindi mi hanno chiesto se invece di continuare a fare calcio in una realtà dove gli spettatori erano una cinquantina a partita in Zeredi, quindi fosse il caso per me di venire qui a Giulianova e poter fare calcio su una piazza più importante dove il calcio era il primo sport della città. Sentendo in città l'umore della gente ho capito che c'erano i presupposti per poter far bene e per poter togliersi delle soddisfazioni, perché quello che cerco io nel calcio, di cui ho una passione innata, sono le soddisfazioni, quindi quali soddisfazioni maggiori per un presidente di non farle in una piazza come Giulianova. Quello che io ci tengo a dire è che nel calcio purtroppo la matematica non esiste, quindi bisognerà avere pazienza tutti e noi cercheremo comunque in tutti i modi di fare subito il salto di categoria. Quando con Luciano Bartolini, che ringrazio, abbiamo fatto i primi colloqui, ho capito subito che da parte del presidente Luciano Bartolini c'era quella passione, quella voglia, quella umanità di ripartire anche da una categoria inferiore, ma con quei presupposti, con quegli ingredienti che possono ridare quello slancio alla passione per il calcio. Io ho anche detto e ho annunciato che lunedì ripartono i lavori al Castrum, un impianto che per 40 anni è stato un campo di patate, noi ci abbiamo investito un milione di euro, oggi i lavori sono interrotti perché la ditta che se ne stava occupando si era resa in tante impianti, abbiamo risolto il contratto, abbiamo riaffidato a tre ditte che si occuperanno di completarli, quello è un impianto che sarà un gerellino, in 90 giorni sarà completato, è il Fadini che sarà affidato, io mi auguro alla società, non ho dubbi, ma lo devo dire da sindaco perché c'è un avviso pubblico, che ieri abbiamo fatto la delibera di giunta per l'affidamento della gestione del Fadini, che purtroppo per inadempienza della vecchia società si sta rovinando come manto verboso, ma anche in questo abbiamo già fatto un accordo che ci porterà a rilanciarlo.